Siamo in via Fratelli Cervi, zona Cappellone ad Adrano, lungo questo muro della scalinata che porta al liceo di Adrano è stato realizzato un murales che possiamo definire certamente un'opera d'arte. È stato realizzato da un giovane artista danita, 25enne, si chiama Brad Pitto e il suo nome d'arte. Spiegaci innanzitutto perché hai scelto questo nome. Brad Pitto perché sostanzialmente faccio il panettiere, Pitto sta per il verbo pittare, dipingere, quindi ho voluto unire, che poi non sono stato io ad affibbiarmi il nome ma un amico, quindi ho pensato fosse abbastanza geniale come nome, quindi mi sono affibbiato Brad Pitto. Tu sei in realtà Fabrizio Nicolosi, accanto a te c'è il sindaco di Adrano perché dobbiamo celebrare davvero questa opera d'arte dedicata a Giovanni Petronio Russo. Spiegaci la tecnica, come hai fatto tutto ciò, in quanto tempo e perché hai scelto Petronio Russo. Allora la tecnica usata sostanzialmente uso proiettore o stencil, questo qua per questione di risparmio anche economico ho usato un proiettore, quindi il tempo ho impiegato un paio di mesi diciamo a perdita di tempo perché un po' mi ha fermato la pioggia, un po' la stanchezza. Perché hai scelto Petronio Russo? Petronio Russo perché appena ho letto la sua storia mi ha affascinato come persona, come filantropo, quindi come inventore. A me piace identificarlo il nostro Nicola Tesla italiano. Tra l'altro tu sei l'autore anche di Alti Burales alla villa di Adrano, Impastato, Borsellino. Borsellino, Peppino Impastato, ce n'è un altro nella circonvallazione di Biancavilla e poi il resto sono fuori Adrano, Cartagirone, Gran Michele, San Michele di Gansaria e molti altri paesi. Insomma Sindaco abbiamo delle eccellenze fra i nostri giovani, dobbiamo dire un'altra cosa importante, Fabrizio ha dipinto, ha riqualificato anche la recensione della scalinata e anche i muretti. Sì, si tratta di una conferma perché Fabrizio mai lo conosciamo, ha realizzato come ha detto bene lui altri murales nella nostra città. Non solo la dimostrazione di un ragazzo che conosce bene quest'arte e si fa apprezzare, ma anche una bella dimostrazione di cittadinanza attiva. Io ci tengo a sottolineare che questo murale sia stato realizzato a spese proprio di Fabrizio e quindi non solo ha pensato a valorizzare Giovanni Petronio Russo che è uno dei personaggi più importanti della nostra storia, della nostra città, ma ha pensato bene anche di riqualificare la scalinata che porta al liceo. Quindi grazie per il lavoro che ha fatto e complimenti.